Benvenute a tutti sul canale. Gregorio è finito in manette a causa di un piano nefasto che ha messo in atto. Le immagini mostrano chiaramente il suo intento di avvelenare e poi strangolare Pia. Nel frattempo la vita di Pia nella storia è tutt'altro che facile, tormentata dalla gravidanza causata dagli abusi del malvagio barone Joan. Le uniche persone su cui lei può contare sono le sue colleghe ed amiche Simona, Candela, Diana e Teresa. Tuttavia c'è un ostacolo inaspettato sul suo cammino, Petra, che con l'enorme cattiveria che la distingue rivela a Cruz che Pia non ha mantenuto la promessa di interrompere la sua gravidanza. Quanto sembra che la marchesa stia per cacciare Pia dal suo palazzo? Interviene Gregorio con una rivelazione sorprendente. Egli dichiara di essere il padre del bambino che Pia aspetta. Una mossa che costringe Alonso e sua moglie Cruz a far spostare immediatamente i due. Questo gesto sembra essere un atto di responsabilità da parte di Gregorio, ma presto si scopre che nasconde un oscuro segreto. Dopo il matrimonio Gregorio comincia a somministrare a Pia dalla cicuta, cercando così di provocarle un aborto, lasciando la povera Pia però in una situazione ancora più precaria. Dopo una serie di visite mediche è diventato chiaro a tutti che Pia è stata avvelenata dal suo stesso marito. Gregorio. In un momento di ammissione schietta Gregorio ha confessato davanti a lei di aver compiuto questo gesto nella speranza di indurla un aborto spontaneo. È in questo momento critico che Romolo è intervenuto, trattenendo il maggiordomo e impedendogli di continuare le sue azioni malvagie. Nel frattempo Gregorio sta cercando addirittura di strangolare la povera Pia, che si sta ribellando al suo volere. Finalmente Gregorio sta però per affrontare le conseguenze delle sue azioni, pagando per tutte le malefatte inflitte a Pia. Forse ora Pia potrà finalmente trovare un po' di pace dopo tutto ciò che ha passato. Ma questa è solo l'inizio della storia e ci sono molti altri sviluppi che vi verranno raccontati nei prossimi episodi e nei futuri spoiler della promessa. Scopriremo il matrimonio di Pia, quello che gli è successo, le sue scelte. Puoi continuare a seguire la storia iscrivendoti a questo canale e continuando a seguirci giorno per giorno. Al prossimo video!